E tu a casa, come sei? Maschio latino classico. Chi? Quello che a casa non fa niente. Ci sei? Lo so, è molto urgente. O ci fai? Non ne devi fare di strada. Ci sei sempre? Operazione primo giorno di scuola? Perfetto. Sei proprio convinto di tornare a lavorare. Per Gemma sei una specie di esempio. O non ti si vede mai? Direi che in uno o due anni inizia pure a sparecchiare. E se un bel giorno basta? Sta diventando un papà chioccia. Amore, pensaci tu. Prima assoluta da venerdì 17 febbraio su Canale 5.